Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo dalla cronaca, oltre 500 kg di articoli pirotecnici sono stati appena sequestrati dalla Guardia di Finanza Aretina. I particolari nel servizio. Troppi fuochi d'artificio stipati senza controllo per questo i finanzieri di Arezzo hanno sequestrato centinaia di chili di prodotti pirotecnici stoccati senza prestare le dovute attenzioni a incendi e scoppi. Nelle ultime ore le fiamme gialle hanno infatti sequestrato oltre 500 kg di articoli pirotecnici per un valore di milioni di euro in un esercizio commerciale nei quali i fuochi d'artificio venivano detenuti e stoccati illecitamente. In questo periodo di festività noi stiamo facendo dei controlli mirati nei confronti di esercizi commerciali che detengono fuochi d'artificio per la vendita al pubblico. Due i sequestri, un primo per un peso di 203 kg, un altro nel deposito invece per 340 kg di fuochi d'artificio privi delle cautele idonee a garantire la sicurezza dell'intero immobile. L'esercizio commerciale di Arezzo infatti deteneva articoli pirotecnici per un quantitativo superore a quello previsto dalla normativa di settore che non può superare una determinata soglia che è quella di 50 kg di materiale esplosivo netto. Per quanto riguarda invece il locale deposito ci sono delle cautele che devono essere prese in considerazione dal commerciante per evitare quelli che possono essere degli incidenti. I militari in tutto hanno sequestrato oltre 96 mila pezzi e denunciato il possessore per commercio abusivo di materie esplodenti. Possiamo immaginare come per un esercizio commerciale che non ha la licenza di pubblica sicurezza perché può detenere un limite proprio per questo motivo di fuochi d'artificio. Insomma era un numero elevato e quindi poteva essere veramente pericoloso detenerlo in quella maniera. Adesso occupiamoci di cronaca giudiziaria. Sentenza questa mattina presso la Corte d'Appello di Firenze per i quattro vertici di Banca Etruria a riguardo proprio al crack dell'Istituto di Credito Aretino. Il filone è quello della bancarotta. Fornasari e Bronchi patteggiano. Berni è stato assolto mentre è stato condannato Soldini. Vediamo il servizio. L'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi hanno patteggiato la pena. Assolto Alfredo Berni, ex vicepresidente, condannato invece ad otto mesi, Rossano Soldini, consigliere nel CDA. Questa la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze per i quattro vertici di Banca Etruria riguardo il crack dell'Istituto di Credito e il filone, quello della bancarotta, che avevano scelto in primo grado il rito abbreviato. Arezzo ha i suoi colpevoli oggi su quello che è stato un disastro che è stato non soltanto quindi economico, ma è stato quindi anche un disastro sociale. Rimane l'amarezza di una realtà bella come Banca Etruria che ormai quindi è morta. Bronchi e Fornasari hanno patteggiato la pena a tre anni e quattro mesi di reclusione. Rossano Soldini, invece consigliere nel CDA di Banca Etruria, è stato assolto per le vicende sacce, città Sant'Angelo, ma condannato ad una pena di otto mesi per le altre contestazioni. Alfredo Berni è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Con il patteggiamento in appello di Bronchi e Fornasari abbiamo quindi stabilito una serie di anche responsabilità che ci sono state nel crack della vicenda. E questo penso sia un soldievo anche per tutti i risparmiatori, che questo si sono sentiti anche loro sotto processo, quasi come se se la fossero cercata, diciamo la disgrazia di aver perso quindi i loro risparmi. In più c'è stato quindi anche, ora dobbiamo leggere le motivazioni, anche quindi la conferma, anche se appena ridotta, per un amministratore senza delega, che potrà essere estremamente rilevante per poi l'altro appello che riguarda proprio tutte le varie delibere e che è stato oggetto di rito ordinario impugnato poi anche dalla Procura, che a ospico venga fissato quindi velocemente, per evitare sotto le bancarotte semplici che ci sia la tagliola poi della prescrizione. E proprio in merito alla vicenda di Banca Etruria, ascoltiamo il commento di Chiara Rubbiani di Feder Consumatori. Dispiace per Rossano Soldini perché è una persona che sappiamo che comunque chi ha seguito le vicende di Banca Etruria, anche prima del crack, chi conosce la storia sa che proprio Rossano Soldini ha sollevato la questione di alcune problematiche nella gestione. Quindi questo sicuramente dispiace. Per quanto riguarda l'aver trovato dei colpevoli, diciamo che forse, io non credo che solamente esista un consiglio di amministrazione, ecco diciamo questo, non si entra in un consiglio di amministrazione a cuor leggero o solamente perché si è in quota e in rappresentanza di, è una cosa seria, amministrare una banca è una cosa serissima e forse diciamo che le responsabilità andavano un pochino distribuite. Va bene, però quelle sono valutazioni che hanno, deve fare la magistratura, avrà fatto la magistratura, poi ovviamente a volte si può anche non essere d'accordo con la magistratura. Si accettano, le sentenze si accettano, ma non è detto che sempre si condividano. Ancora a cronaca, un incidente stradale, e questo pomeriggio a Terontola di Cortona erano da poco passate le 4 del pomeriggio quando lungo la statale regionale 71 all'altezza del raccordo con la superstrada Siena-Perugia proprio nell'abitato di Terontola un minore ha perso il controllo della propria motocicletta. Nell'impatto ha urtato contro il guardrail finendo nel fossato adiacente. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della misericordia di Cortona. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale senese delle scotte. E ancora cronaca, il 47enne Aretino accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il fratello resta in carcere. L'udienza di convalida ieri. Resterà in carcere, almeno per il momento, il 47enne Aretino accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il fratello. Si è infatti svolto ieri nel carcere Aretino di San Benedetto l'interrogatorio di garanzia. L'avvocato difensore Francesca Arcangeli ha chiesto per l'uomo una misura cautelare e meno afflittiva gli arresti domiciliari. Il PM Chiara Pistolesi invece si è opposta. Adesso la parola passa al jeep che avrà 5 giorni per prendere una decisione. L'episodio risale allo scorso 23 novembre. I due fratelli erano assieme in auto e stavano percorrendo la E78 in direzione Arezzo. All'uscita della quattro corsia è il culmine di una lite, però il 47enne avrebbe accostato e fatto scendere il fratello minore di 43 anni per poi tentare di ucciderlo con una serie di difendenti. Infine lo avrebbe abbandonato in una pozza di sangue lungo la strada a notare la vittima alcuni passanti che gli avevano prestato soccorso. L'uomo era stato portato prima all'ospedale di Arezzo poi alle scotte di Siena dove nei giorni successivi era stato sottoposto ad alcuni interventi. La squadra mobile di Arezzo aveva subito avviato le indagini che si erano strette attorno al fratello maggiore fondamentali poi le dichiarazioni del ferito. Infine l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 47enne eseguita lo scorso 27 dicembre. Restano però ancora da chiarire i contorni della vicenda soprattutto il movente di questa folle aggressione. E adesso andiamo in Casentino con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente il reparto Carabinieri Biodiversità di Prato Vecchio che gestisce il parco delle foreste casentinesi Monte Falterona e Campigna ha presentato un progetto di restauro della corona diabeti dell'eremo di Camaldoli intervento che è in corso di attuazione. Il finanziamento del Ministero ha consentito di fare un'indagine approfondita sui patriarchi verdi. Le 242 piante di abete bianco della corona sono state catalogate, misurate e georeferenziate ed è stato valutato lo stato di salute di ognuna. Le prove hanno evidenziato la necessità di procedere alla rimozione di 55 piante che sarà effettuata proprio nei prossimi giorni. Ancora cronaca, si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha visto sul banco degli imputati un sessantenne accusato di aver ucciso una gattina di sette mesi con un colpo di carabina ad aria compressa. L'uomo è stato condannato. Vediamo il servizio. Quattro mesi di messa alla prova presso la misericordia di Montevarchi e il risarcimento del danno alle parti civili. Questo quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Arezzo per il sessantenne è accusato di aver ucciso una gattina di sette mesi con un colpo di carabina. L'episodio risale al dicembre 2020. La micia fu trovata a Levane dalla proprietaria riversa a terra in fin di vita in una pozza di sangue. Inutile la corsa al pronto soccorso veterinario e l'intervento d'urgenza. Un pallino aveva infatti attinto gli organi vitali e per la piccola gatta non era stato possibile fare nulla. Immediate le indagini dei carabinieri che riuscirono ad individuare il responsabile un residente della zona che in più circostanze, secondo gli inquirenti, avrebbe manifestato in sofferenza nei confronti degli animali. I militari gli sequestrarono anche una carabina e due pistole, tutte armi ad aria compressa, legalmente detenute e potenzialmente compatibili con le ferite che avevano portato alla morte la gattina. Lo scorso gennaio, all'avvio del processo, quattro le associazioni animaliste e che si erano costituite parte civile Gaia Animali e Ambiente, WWF, OIPA ed EMPA. Il sessantenne aveva chiesto la messa alla prova ma prima di poter accedere a questa misura che permette di estinguere il reato è stato necessario trovare un accordo con associazioni e proprietari. E adesso ad Arezzo, lo skate park ha un nuovo gestore. Finalmente i tanti appassionati del cosiddetto sport di strada potranno tornare a divertirsi e ad allenarsi. Ad annunciarlo è l'assessore Federico Scapecchi. La riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto consentiranno di poter usufruire di uno spazio migliorato e adeguato a questi sport che si stanno sempre di più diffondendo. Ad aggiudicarsi il bando è stata la SD Four Riders. 80.000 euro l'importo complessivo per la riqualificazione e la gestione. Di questi, 50.000 euro provengono da un contributo del Comune di Arezzo. 18 anni la durata dell'affidamento gratuito sulla base del piano economico-finanziario presentato dalla stessa società sportiva. L'avvio dei lavori è previsto nelle prime settimane del nuovo anno. E adesso passiamo alla politica con il nuovo assetto provinciale che ha visto eleggere presidente aretino Alessandro Polcri. È fissato per il prossimo 5 gennaio alle 16 il primo consiglio provinciale dell'era Polcri. Intanto questa mattina si è svolta una conferenza stampa dei referenti della realtà politica patto civico che lanciano un appello di condivisione proprio al neopresidente. Vediamo. Faccia come caratteristica del suo mandato quello di un'amministrazione aperta a tutti, a tutti i territori, a tutti i cittadini che risponde ai bisogni della cittadinanza e che sia in continuo dialogo con gli amministratori locali cercando di svincolarsi il più possibile dai classici schemi partistici che secondo noi poco hanno a che vedere con la gestione dell'ente. E' questo l'appello che i consiglieri del gruppo provinciale patto civico Intratevere Eterno lanciano al neo eletto presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri. Con la nostra autonomia e indipendenza ci contraddistingue in ogni banco di ogni consiglio comunale metteremo a disposizione del presidente Polcri le nostre conoscenze, le nostre competenze e saremo attenti alle valutazioni degli scenari che lui proporrà con il suo insediamento. Intanto per il prossimo 5 gennaio alle 16 è stato fissato il primo consiglio provinciale dell'Era Polcri eletto a metà dicembre il nuovo presidente della provincia con voti trasversali di consiglieri e sindaci che si riconoscono nell'esperienza civica ma anche del centro-destra e centro-sinistra. C'è stato un voto dei grandi elettori dei sindaci e dei consiglieri che hanno dato un'indicazione chiara cioè quella che la provincia oggi è la casa dei comuni e dunque il presidente dovrà avere un ruolo di arbitro e non di giocatore nell'interesse di tutto questo territorio che è la provincia e naturalmente nell'interesse dei singoli comuni. Questo è il messaggio che è arrivato forte e chiaro dai territori dai comuni dai sindaci soprattutto e dunque questa sarà anche la mia missione in questo mandato da presidente. Quale maggioranza si delinerà si vedrà solamente nelle prossime settimane ma intanto il neopresidente Polcri ha le idee ben chiare sugli impegni dell'ente uno su tutti il futuro di Ponte Buriano. Il 9 di gennaio sarò per lì presente la prima pietra possiamo dire del cantiere perché è un'opera importantissima strategica per la messa in sicurezza del territorio e anche per valorizzare Ponte Buriano dunque la parte più storica. Rimaniamo ad Arezzo perché si chiude l'esperienza del mercato di prodotti a chilometro zero in pieno centro ad Arezzo. Il 31 dicembre il mercato loggio del grano e l'osteria del mercato chiuderanno le porte. Troppo onerosi i costi di gestione della struttura. Nel 2015 il comune di Arezzo aveva dato in fitto l'immobile ad un gruppo di aziende agricole ma oggi i produttori della rete alzano bandiera bianca non potendo più gestire i costi e non ricevendo supporto da parte del comune di Arezzo che è proprietario dell'immobile. La rete ha cercato di avere un approccio collaborativo e costruttivo con il comune spiega il presidente del comitato loggio del grano Antonio Tonioni evidentemente il comune non ritiene il mercato importante fin dall'apertura non ha mai dato risposte ha rimbalzato le problematiche e ha rigettato tutti i progetti di sviluppo strutturale ed economico del mercato anche la camera di commercio ha cercato di organizzare un incontro per discutere del futuro del progetto loggio del grano fra comune rete e associazioni di categoria ma non ha ricevuto la disponibilità del comune a partecipare spiega sempre il presidente del comitato loggio del grano Antonio Tonioni e si sono conclusi i lavori di nuove acque per il collegamento all'impianto di depurazione del casolino degli scarichi liberi di Viale Santa Margherita via Buonconte da Montefeltro e della località Patrignone ad Arezzo per la realizzazione degli interventi nuove acque ha investito complessivamente circa 530 mila euro grazie ai lavori appena conclusi le acque reflue degli scarichi liberi interessati dai lavori verranno separate da quelle meteoriche e fatte proseguire fino all'impianto di depurazione del casolino i lavori rientrano in un piano più ampio di opere di collegamento alla depurazione degli scarichi liberi del comune di Arezzo per il quale sono stati previsti quasi 6 milioni e 500 mila euro di investimenti per un totale di 9 interventi fra quelli conclusi e quelli invece avviati e adesso parliamo di arte Elisabetta Caizzi Marini Federica Gonnelli Ilaria Margutti e Elisa Zadi sono solo alcuni degli artisti della mostra collettiva negli spazi di Rosi Boa in via San Laurentino ad Arezzo vediamo il servizio lasciare la propria orma ha significato far sì che considerassero lo spazio di Rosi Boa non come semplice contenitore dove appendere i loro quadri ma come supporto espressivo quindi fare in modo che Rosi Boa diventasse proprio parte integrante della loro opera L'orma che vedi è la mia questo è il titolo della mostra negli spazi di Rosi Boa una collettiva di alcuni tra i nomi della scena artistica italiana più interessanti Elisabetta Caizzi Marini Federica Gonnelli Ilaria Margutti ed Elisa Zadi L'arte riflette appunto quello che succede di fatto nell'interazione tra le persone non è più possibile pensare di fare sempre monologhi forse è il caso di fare un dialogo L'esposizione prende le mosse dall'idea di utilizzare gli stimolanti spazi di Rosi Boa non come contenitore ma come supporto espressivo facendo quindi interagire l'artista con lo spazio e con il pubblico in questo modo le artiste hanno fatto sì che Rosi Boa appunto presentasse delle vere e proprie installazioni molto simili a quelle che loro effettivamente hanno nei loro studio presentano nei vari progetti e non avevano soltanto questo compito ma anche il compito di far sì che il visitatore lasciasse la propria orma cosa quindi ancora più complessa che ci ha portato a realizzare tutta una serie di appuntamenti nei quali vengono qui le artiste e interagiscono con il pubblico cioè un pubblico non più visitatore passivo ma un pubblico che proprio interferisce nell'opera lascia la propria orma e adesso andiamo a Cortona si stanno completando in questi giorni le operazioni di trasferimento dei nuovi inquilini del canile intercomunale di ossaia proprio a Cortona mentre stanno per terminare i lavori di ampliamento della struttura gli ambienti sono già in grado di accogliere i nuovi ospiti a quattro zampe il canile intercomunale infatti si allarga e diventa una famiglia ancora più grande qui troveranno ospitalità dopo il passaggio nel canile sanitario gli animali di ben 15 comuni sia della valdichiana aretina che di quella senese i lavori di ampliamento in corso sono proprio il frutto di questa nuova collaborazione e sono resi possibili grazie ad un finanziamento di 120 mila euro e adesso passiamo allo sport parliamo del rezzo calcio è stato concesso l'anticipo al 7 gennaio per la prima partita del girone di ritorno contro l'Orvietana al comunale mercoledì 11 gennaio gli ottavi di finale contro il Pineto per la Coppa Italia di Serie D con inizio alle 14.30 oggi in sala stampa per parlare del riavvio della stagione c'era Niccolò Gucci l'attaccante reduce da due gol segnati nelle ultime due giornate ha stirato un bilancio alla fine del girone di andata sentiamolo sì io posso parlare per l'ultimo mese da quando sono arrivato sicuramente è un girone tosto ma questa la Serie D te lo impone in ogni non girone abbiamo avuto i nostri momenti un po' di difficoltà che però penso abbiamo superato guardando sempre la partita successiva e ora dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo bene nel quotidiano e sono convinto che insomma questa squadra abbia tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo quali sono i margini di miglioramento di Niccolò Gucci che comunque fino a questo momento ha fatto diciamo discretamente bene sì beh sicuramente devo ancora arrivare diciamo al top della forma e all'inizio sapevo di dover pagare un po' lo scotto della mancanza del campo e poi la conoscenza con i compagni va sempre va sempre migliorando quindi posso ancora penso di poter dare ancora un'ulteriore mano alla squadra quindi c'è solo da lavorare e andare sereni ecco l'Arezzo ha fatto benissimo con le squadre favorite per la vittoria del campionato mentre se ha fatto qualche passo falso l'ha fatto con le squadre diciamo apparentemente più deboli sì questo ci può ci può dare un po' un monito nel senso che se magari affrontiamo le squadre tra virgolette più più blasonate più forti e con un certo piglio ecco dobbiamo dobbiamo riportarlo anche con squadre magari meno attrezzate perché così almeno non corriamo nessun rischio ecco allora la pianese è lì davanti ancora l'Arezzo deve impegnarsi nel girone di ritorno a mettere in atto questa operazione sorpasso sì lo stanno facendo un gran campionato è fuori è fuori di dubbio noi siamo tre punti indietro e bisogna recuperare senza senza farci prendere dalla frenesia c'è un girone il campionato è lungo quindi guardiamo partita per partita partiamo dalla prossima e poi via via tutte le altre e in chiusura parliamo di podismo è una delle prime gare podistiche del nuovo anno in Toscana si tratta del capodanno di corsa di San Giovanni Valdarno il primo gennaio si svolgerà la sua quarantaseesima edizione è una gara organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Ezio Bianchi in collaborazione con l'Atletica San Giovannese con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno la partenza sarà alle 10 e 30 da Piazza Cavour il famoso evento sportivo San Giovannese del primo dell'anno offrirà la possibilità di partecipare a due percorsi la gara competitiva di 13,4 km valida per il Grand Prix Arezzo 2023 per il campionato provinciale WISP e per il trofeo donatori di sangue Avis e la corsa passeggiata non competitiva di 5,3 km le iscrizioni per chi non avesse già provveduto possono essere effettuate anche il giorno stesso della competizione e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a l'attenzione a l'attenzione a l'attenzione Grazie a tutti.